50.000 nel nostro paese gli ondas, le persone senza una casa e questo è un fatto molto importante perché non solo c'è bisogno di pasti come sua lui ma lui attiva un processo di inclusione che vuol dire cercare di farli vivere e di coinvolgerli anche nella preparazione di questi pasti in modo da dargli anche una pristettiva, quindi un grandissimo lavoro di inclusione vera e propria e ora premiamo Carlo Vettorato